Seguito da Gianni, Michele e Wendy, il signore e la signora Tavoling irruppono nella camera ma troppo tardi gli uccellini erano volati. Via! La voce che avete sentito è quella di David Riondino, invece le musiche sono quelle di Luca Poletti che oggi è qui in studio con noi. Ben ritrovato! Beh grazie, è sempre un piacere venire qui a trovarti. Anche per me, anche per me effettivamente, anche perché ritorni da un viaggio incredibile, vero? Sì, sei mesi in giro per il globo terraqueo. Eh, dai racconta! Siamo partiti da Miami sei mesi fa, abbiamo fatto un po' Caraibi, in giro America, poi siamo ritornati in Europa, Nord Europa, Islanda, Norvegia, Svezia, Russia. Ma non con David Riondino, ma con un'altra, cosa era? Con una formazione con un guiglian tra quartet, un quarteto jazz, abbiamo girato un po' su queste navi. Un'esperienza impegnativa, però l'abbiamo portata a casa. Beh certo che te la ricorderai per tutta la vita questa. Direi di sì. È da ripetere? Ma potrebbe essere da ripetere. Magari rivedendo un po' il menu. Esatto, con delle trofie al pesto magari nella prossima... Credo che tu abbia desiderato, lo dicevo prima di entrare in diretta, tu abbia desiderato veramente un bel piatto di pasta come si diceva. Esatto, all'italiana. Invece, in questa nostra occasione parliamo dello spettacolo Peter Pan va alla guerra, uno spettacolo di narrazione, musica e immagini, come dicevamo con David Riondino come voce narrante, Massimo Ottoni, sabbista. Le tue musiche e poi l'interpretazione del clarinetto solista di Fabio Battistelli accompagnate da complesso bandistico Città di Belluno diretto dal maestro Sandro De Marchi. Il tutto rientra nella ventesima edizione della manifestazione Oltre le vette. Noi ne parleremo naturalmente nei prossimi giorni anche con Flavio Fauro che è il curatore di questa rassegna. Arriverà al Teatro Comunale, ore 21, sabato 8 ottobre. Sei contento di aver portato in provincia questo spettacolo che è stato presentato in diverse parti d'Italia. Finalmente approda anche a Belluno. La prova a Belluno è stata una grande soddisfazione soprattutto per il fatto che questo spettacolo è nato con la collaborazione della banda filarmonica bassanese. Quindi è stato realizzato in collaborazione con la banda. La prima è stata Bassano del Grappa, poi si è spostata a Mantua, poi ci sono altre repiche in vista in giro per Nord Italia e forse anche fuori. Per cui questa rappresentazione nella mia terra penso sia una cosa molto... Un motivo di orgoglio. Sì, soprattutto per il fatto che le esperienze fatte in regioni fuori dal Veneto si possa ritornare finalmente nella propria terra e realizzare le opere che si sono fatte fuori. E devo dire, se mi permetti, visto che ha citato il direttore artistico Favro, è stato subito molto interessato a questa rappresentazione. Perché Peter Pan va alla guerra, si parla di Peter Pan, il famoso Peter Pan bambino che non voleva crescere. Però anche il Peter Pan è il famoso, forse qualcuno non lo saprà, però è un soldato che è morto nella prima guerra mondiale e che quasi volmente è nato lo stesso giorno in cui Berris ha scritto il libro. Lo stesso anno. Quindi si parla di Peter Pan bambino e Peter Pan soldato. Quindi si parlerà di trincea, si parlerà dei morti, si parlerà dei bambini che imparano a volare, si parlerà di Hemingway, si parlerà di tante cose insomma. Però tutto in chiave estremamente, secondo me, nuova. Nel senso che non c'è questa idea della guerra in cui ci sono i morti, in cui c'è la musica del periodo storico ricorrente. Quindi non le solite tematiche relative alla guerra, ma una guerra vista come una guerra interiore, guerra storica, con musiche originali. E quindi si sposta tutto in una chiave più fantasiosa, anche perché c'è questo sabbista, questo Massimo Ottone, che disegnerà sulla sabbia, sopra le musiche, sopra il testo di Riondino. Quindi c'è una commissione di arti che potrebbe essere, non so, una visione diversa delle montagne, visto che è oltre le vette, ma anche della storia, insomma, della prima guerra. Senti, comporre le musiche che accompagnano questo spettacolo, qui c'è un lavoro dietro e anche una costruzione minuziosa, direi, di quello che deve essere l'accompagnamento che poi fa sì che come spettacolo resti nella memoria delle persone, perché la musica ha un suo peso nel processo dello spettacolo. Infatti la prima domanda è stata, di tutto questo Ambaradam, cosa è che è la cosa principale? Peter Pan, ma quale Peter Pan? Ho scelto di interpretare Peter Pan, bambino, quindi il clarinetto sarà il bambino Peter Pan che impara a volare, quindi la musica è più cinematografica che storica, insomma. Non volevo fare una ricostruzione storica della musica del primi del Novecento, austro-ungarica, perché non avrebbe nessun senso ricostruire della musica già stata scritta. Cioè, ho preferito creare una musica originale e dare voce a questo. E lo stesso clarinetto solista poi diventa l'altro Peter Pan, quindi il clarinetto si sposta tra un personaggio e l'altro, e la banda crea delle sonorità più vicine al cinema americano, anche se vogliamo. Però, quindi è stata una scelta basata sul personaggio, quindi sull'idea che mi ha richiamato il personaggio Peter Pan, bambino. Quando si lavora con persone di un certo calibro, come David Riondino, un artista, insomma, che mi sembra cantautore, attore, regista, scrittore, devi trovare un feeling che è come l'anello della catena, vogliamo dire. Eh, ci deve essere un grande feeling. Io credo, da quello che mi hai raccontato anche fuori da questa diretta, che effettivamente questo feeling si sia creato da subito, cioè c'è stata una corrispondenza. Si, si è creato da subito, anche perché lui ha avuto grande fiducia da subito, cioè sconosciuto. Però, il fatto che lui abbia detto, ok, questa è quello che voglio, qui voglio che si parli della musica, rappresenti la guerra, qui voglio che si... però non mi ha detto, tu dovresti fare così, tu dovresti fare così. Mi ha dato carta bianca, mi ha detto, dammi delle idee musicali e poi, quando me le mandi, ne parliamo e vediamo come sistemarla. Poi è andato tutto liscio, insomma. E questa è stata una grande forza, secondo me, perché ognuno mette un pezzo del proprio lavoro di sé. Allora, ore 21, Teatro Comunale di Belluno, Peter Pan va alla guerra. Questo spettacolo si inserisce all'interno della ventesima edizione della Rassegna Oltre le Vette. Spettacolo di narrazione, musica e immagini. Grazie a Luca Poletti, che oggi è stato con noi qui negli studi di Radio Belluno. Grazie a voi, se mi concedi, voglio ringraziare Sandro De Marchi, che ha studiato la partitura molto bene e la banda che la realizzerà, la banda comunale di Belluno, visto che hanno accettato subito, senza avere grande materiale sotto mano, di studiare la partitura e si stanno mettendo molto di impegno e siamo già quasi pronti allo spettacolo. È un altro riconoscimento per premiare il lavoro del complesso bandistico Città di Belluno, che è uno di quei tasselli che per la città di Belluno è molto molto importante e identifica anche la città. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao.